Ciao a tutti, sono Valentina e questo è Director's Cut. Stiamo per tornare con il direttore del festival, Marco Müller. State con noi! Siamo sul web. Non possiamo non citare l'attesissimo film di Paul Verhoeven, Tricked, realizzato proprio attraverso il contributo dei social. È un'idea di espansione della figura dell'autore? A quest'oggi Rai Cinema ha presentato un progetto di web movies, quindi qualcosa si sta muovendo. Anzi, trovo che sia abbastanza sorprendente che in un paese dove non sembra molto frastagliata la scena della commissione tra cinema e internet, addirittura la televisione di Stato si mette a scommettere sui web movies. Qualcosa sta succedendo in Europa, ispira un vento che è favorevole a questo tipo di sperimentazioni. Il film di Paul Verhoeven è un film ricco, un film pieno di valori produttivi, ma soprattutto è una scommessa straordinaria. nel dialogo con i social network Verhoeven è riuscito a trovare una sua strada personale, ma al tempo stesso che rispettasse in qualche modo le opinioni della maggioranza degli utenti della rete. Ma la cosa più affascinante per noi è che questo è uno stimolo anche ad estendere il festival oltre ai muri delle sale, è quello che un po' state facendo voi. Apre anche Prospettive Italia, con due film su dei grandi del cinema italiano. Carlo, il primo film, Giuliano Montaldo, il secondo. Un invito ai filmmaker italiani a riscoprire e imparare dal cinema del passato? Sì, sembra che Cile Maxi debba subire una battuta d'arresto, ma in realtà qui, proprio qui al Museo delle Arti del XXI secolo, c'è una sorta di enciclopedia della preistoria di Cile Maxi, di tutti quegli ostinati cineasti che in Italia, già negli anni 60 e 70, facevano la spola tra il cinema e le arti visive. Ma a questo punto spazio viene dato alle proposte italiane, anche perché c'è anche un fin sorpresa addirittura di Prospettive Italia. Ben Hur ci porterà sul tappeto rosso molto movimento, ma è soprattutto... Ecco, un altro modo, perché ne parlo vicino ai Cile Maxi? Perché è l'adattamento cinematografico di una pièce teatrale e un'altra dimostrazione che non è, certo, teatro filmato e basta, è una dimostrazione di come il cinema abbiamo bisogno di fare ogni volta quel viaggio per ritemprarsi, insomma, alle sorgenti che l'hanno fatto nascere e diventare più forte proprio perché il teatro gli ha regalato qualcosa di nuovo. Giuliano Montaldo è uno tra i gentiluomini del cinema italiano, è un film sorprendente che vi consiglio di andare a vedere, anche perché chi ha forse dimenticato che Giuliano Montaldo è stato uno straordinario attore, lo troverà seducente, affascinante come uno dei grandi nomi tutelari del cinema italiano. Del resto è una posizione che gli spetta perché registicamente è per forza uno dei nomi con i quali siamo tornati regolarmente a fare i conti. Ha citato il film Sorpresa, Ben Hur che insieme all'opera seconda di Giovannesi, Ali Agli Occhi Azzurri, propone uno sguardo molto originale sulla capitale, un auspicato risveglio di Roma come capitale cinematografica? Ali Agli Occhi Azzurri è un film straordinario proprio perché in qualche modo ci fa vedere una veste multietnica di Roma che però non è quella consueta, quella con la quale abbiamo avuto alcuni appuntamenti negli ultimi anni, cioè la Roma degli immigrati, la Roma dei problemi sociali, no, ci dice semplicemente guardate che Roma è cambiata, guardate che i nuovi romani magari hanno dei padri agiziani, albanesi, serbi, bosniaci, marocchini ed è molto bello che con grande passione, con l'estro che ci vuole per provare a raccontare questa nostra città, Giovannesi affronti appunto la nuova geografia di una Roma che è cambiata sotto i nostri occhi e che noi abbiamo delle volte bisogno che un film ci faccia vedere con maggiore precisione. C'è un altro film in concorso che è Amanda Lama di Valérie Donzellì, una surreale, stralunata commedia musicale, anzi un film di danza addirittura, un'altra piccola sorpresa che ci riserva il concorso e poi e poi a questo punto se avete voglia di cantare e ballare bisogna andare a vedere il film del gala fuori concorso Serra Elemental, il nuovo film di P.J. Hogan, un remake lisergico di Mary Poppins, un inguisa di un seguito non ufficiale di Tutti Insieme Appassionatamente, probabilmente uno tra i film più immediatamente accessibili ma anche assolutamente più sorprendenti di tutto il festival. Anche per oggi è tutto da Director's Cut, ricordatevi di iscrivervi al canale e di condividerci e seguirci su Facebook e Twitter per vincere uno dei cinque billetti in palio ogni giorno. Ricordate anche che potete inviarci le vostre domande al direttore Marco Muller qui sul nostro canale.